14.30 dal Vangelo secondo Matteo In quel tempo Gesù disse ai Suoi discepoli questa parabola. Un uomo, partendo per un viaggio, chiamò i suoi servi e consegnò loro i suoi beni. A uno diede cinque talenti, a un altro due, a un altro uno, a ciascuno, secondo la sua capacità, e partì. Colui che aveva ricevuto cinque talenti andò subito a impiegarli e ne guadagnò altri cinque. Così anche quello che ne aveva ricevuti due ne guadagnò altri due. Colui invece che aveva ricevuto un solo talento andò a fare una buca nel terreno e vi nascose il denaro del suo padrone. Dopo molto tempo il padrone di quei servi tornò e volle regolare i conti con loro. Colui che aveva ricevuto cinque talenti ne presentò altri cinque, dicendo Signore, mi hai consegnato cinque talenti. Ecco, ne ho guadagnati altri cinque. Bene, servo buono e fedele, gli disse il suo padrone. Sei stato fedele nel poco? Ti darò autorità su molto. Prendi parte alla gioia del tuo padrone. Presentatosi poi colui che aveva ricevuto due talenti, disse Signore, mi hai consegnato due talenti. Vedi, ne ho guadagnati altri due. Bene, servo buono e fedele, gli dispose il padrone. Sei stato fedele nel poco? Ti darò autorità su molto. Prendi parte alla gioia del tuo padrone. Venuto infine colui che aveva ricevuto un solo talento, disse Signore, so che sei un uomo duro, che mieti dove non hai seminato e raccogli dove non hai sparso. Per paura, andai a nascondere il talento sottoterra. Ecco qui il tuo. Il padrone gli rispose Servo malvagio e infingardo. Sapevi che mieto dove non ho seminato e raccolgo dove non ho sparso. Avresti dovuto affidare il mio denaro ai banchieri e così ritornando avrei ridirato il mio con l'interesse. Toglietegli dunque il talento e datelo a chi ha dieci talenti. Perché a chiunque ha sarà dato e sarà nell'abbondanza. Ma a chi non ha sarà tolto anche quello che ha. E il servo fannullone, gettatelo fuori nelle tenebre. Là sarà pianto e stridore di denti. Parola del Signore. Ascoltiamo sempre nel contesto del capitolo 25 di Matteo la famosa parabola dei talenti che è diventata una parola in italiano che vuol dire qualità, che vuol dire capacità. Questo ragazzo ha talento per dire bravo. Ma in realtà il talento per il Vangelo, al tempo del Vangelo, è un'unità di misura. È come dire una tonnellata, ecco diciamo così. Cioè era un'unità di misura enorme. E quindi questo padrone che chiama i suoi servi e consegna ai suoi servi questi talenti in realtà gli affida un patrimonio enorme. Perché cinque talenti era una misura immensa, ma anche due, ma anche un solo talento, ecco, non è poco, insomma. Non dà a tutti la stessa cosa. Non tutti hanno la stessa responsabilità. Ma tutti sono chiamati a impiegare quel talento. Ma non perché quel padrone, come dire, li voglia sfruttare per averne un guadagno. Perché poi infatti alla fine, quando il padrone torna, glieli ridà, anzi gliene dà, gliene dà altri cinque, gliene dà altri due. Quindi non le rivuole indietro. Ma anzi, dona ancora di più. Qual è il problema dell'ultimo servo? Cos'è che sbaglia l'ultimo servo? Non il fatto che non abbia reso, non abbia fatturato molto con quel tesoro assegnato, ma il fatto che ha avuto paura. Si capisce dal dialogo. Signore, so che sei un uomo duro, che mieti dove non hai seminato e raccogli, dove non hai sparso. Ho avuto paura. E ho nascosto il mio talento sotto terra. Ecco qual è l'errore del servo. Avere paura di Dio. sbagliarsi su Dio e perciò sbagliarsi sulla propria vita. Vivere la vita con paura, con una ricerca di qualcosa che temi di non essere all'altezza, di non poter restituire, di vivere la vita con un senso di pesantezza, e non di serenità. Con un senso di colpa, con quel timore, ma in senso negativo, di essere sempre giudicato. e alla fine i conti non torneranno mai. Ecco, questo, mi sembra, questo atteggiamento è quello che condanna la parabola. E alla fine, infatti per dire che proprio non siamo in un campo economico, alla fine si dice toglietegli il talento e datelo a chi ha i dieci talenti. Perché a chi ha sarà dato e sarà nell'abbondanza, ma a chi non ha sarà tolto anche quello che ha. Uno dice, ma non è giusto, ma non è una questione distributiva, è una questione di, appunto, capacità di ascolto e di fiducia. A chi ha fiducia, a chi si mette nelle mani di Dio, a chi vive la sua vita cercando di, noi diremmo, sfruttare i talenti che Dio gli ha, mettendoli a disposizione di tutti, questa capacità sarà data sempre di più. A chi si ripiega su se stesso, a chi si tiene stretta la vita, a chi si rinchiude nel proprio io, come dire, questa capacità verrà sempre meno. Più uno è egoista e più lo sarà. Più uno impara ad amare e più questo amore si accresce. Ecco, il mio parroco di quando ero bambino diceva la fede è come andare in bicicletta di notte. Più pedali, quando c'era la dinamo ancora, e più fa luce. Più pedali forte e più la luce è grande. Più ti lanci in questa avventura con Dio e più aumenta tutto. Aumenta la vita, aumenta l'amore, aumenta la fede, aumenta le tue capacità di dono. Chiediamo al Signore di non essere dei servi pigri o paurosi, ma di essere dei figli che godono e ringraziano per i doni che hanno ricevuto e li mettono a disposizione di tutti perché il Signore li moltiplichi a bene e a beneficio di tutti quanti. a bene e a beneficio di tutti quanti. a bene e a beneficio di tutti quanti.